Con una causa e con un effetto. Cerchio e seno attraverso NT 9 dicembre 2000 Alexander. È un concetto molto vasto quello del karma. Spero di essere esaustivo con poche parole, con pochi concetti espressi. Dunque il karma si esprime con una causa e con un effetto. E' chiaro che l'effetto deve esserci per forza. La causa è stata mossa da un'entità incarnata ovviamente, non è mai voluta da qualcun altro. Ecco allora, il karma può essere modificato, può essere alleggerito nella sua conseguenza come effetto, capite? Ma il karma è comunque un debito che si deve pagare, non può essere assolutamente eliminato. Se voi avete un debito con un vostro simile potete scegliere delle forme di pagamento, vero? Ma il debito deve essere pagato. Voglio aggiungere questo. Il karma si può evitare? La mia risposta è certo, il karma si può evitare. Se voi siete consapevoli abbastanza da capire che ogni vostra azione, specie se negativa, può innescare, muovere, promuovere un karma, allora si può evitare a monte, prima che quella vostra azione possa produrre quella fase karmica. Capite figli? Questo sì che è in voi poterlo evitare. Ma se durante la vostra esistenza da disincarnati, liberi dalla materia, nonostante i buoni proponimenti, buoni sentimenti, non fate in modo poi che a quelle buone proposizioni, a quei buoni sentimenti seguano azioni morali rette e positive nella vostra esistenza da incarnati, allora è chiaro che voi stessi siete la causa del karma che si inizia e che poi si deve concludere. Credo che sul karma per il momento possa bastare.